ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se vi fa piacere se vi va di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video attivare la campanella in questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova scelta sul canale che vi aspetto anche su instagram trovate i nei sopra impressione link diretto sotto l'infobox è un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire con un sottopio rispetto al solo canale ho anche un profilo per le piante quindi per chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì stessa identica cosa nickname e link sotto l'infobox e vi aspetto su tiktok trovate stessa cosa il link che passerà il nickname che passerà sopra impressione e il link diretto sotto nell'infobox oggi un video un po' particolare perché voglio aprire con voi è un pacchetto che mi è appena arrivato e parlando di calcio per gli amanti di calcio e so che quest'anno gli europei non sono andati proprio hanno fatto schifo non sono andati molto bene per noi purtroppo e però non c'è soltanto gli europei perché questo sito che ho scoperto vende maglie di calcio e di ogni liga quindi abbiamo davvero dalla serie a comunque qua vi metto poi uno screen del telefono del sito insomma quindi troviamo tutti i tipi di club le nazionali e magliette anche retro quindi vecchie quelle autentiche delle formazioni in più c'è anche la linea per le donne gioventù nba e ci sono più quindi ho preso una maglietta volevo condividere con voi il video ho contattato il servizio che tra l'altro sono carinissime velocissime nell'invio e sono riuscita ad avere anche un codice sconto per voi che vedrete sopra impressione comunque sotto nell'infobox troverete il link per acquistare da questo sito e anche il codice sconto e ha delle cose bellissime per chi ama il calcio è un sito fantastico prodotti di qualità consegna gratuita sopra i 69 euro e ci sono anche i completi e quindi è un sito che ho scoperto e che mi sta davvero piacendo tantissimo quindi come vi dicevo comunque poi vi farò lo screen con il sito e farvi vedere anche quanto è semplice e visionare il sito e scegliere i prodotti è stato difficilissimo scegliere io sono una brava moglie perché avrei potuto prendere una maglia della mia squadra per cuore ma ho fatto scegliere a diego e la maglietta e siccome noi a casa facciamo il derby pensavo che la sua scelta sarebbe andata sulla maglia della roma e invece no ha scelto un'altra maglia meglio alla salotta dico meglio e questa è la maglietta che ha scelto lui è appena arrivata proprio adesso adesso e quindi la stiamo scoprendo insieme per la prima volta così andiamo a vedere anche la qualità del tessuto poi gliela faccio provare così ma come è fresca è freschissima ma tra l'altro vorrei farvi vedere che c'è il baffetto del knife sulla borsa perché questa mamma mia è freschissima qui c'è il cartoncino vi ha scelto una taglia m vedete proprio tutto poi farò anche una ripresa migliore per la maglia lui ha scelto questa che non so di che cos'è però forse è spagnola real madrid oddio che bello il loghino è tipo in gomma non è di quelli scrausi stampati attaccati e messi lì tanto per che il baffetto dorato della nike con scritto spotify e qui c'è anche una trova un autografo che non capirò mai comunque è anche autografata poi semmai chiedo a diego che ma gli ha scelto e ti dico per bene è bella traspirante morbidissima che sono davvero bella 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 anche qui interno e la parte dietro che c'è questa scritta di all'unice ma è un tessuto morbidissimo super fresca qualità è ottima davvero quindi prima impressione buonissime vediamo un po' se riesco a capire che maglia ha scelto maglia barcellona 2023-2024 quindi è una maglia speciale quindi del barcellona che era della spagna c'era arrivata dai qua dietro c'è anche questo loghino qua ma è davvero di ottima qualità veramente sono sorpresa molto molto bella diego ancora la deve vedere tra l'altro ora gliela porto sarà felicissimo che l'ho aperto io vabbè però volevo fare il video con voi e volevo condividerlo con voi perché è un po' rialzato poi il baffetto della nike e come anche il lo scudetto insomma della del barcellona che è leggermente rialzato e 3d bellissimo davvero bello e le maniche sono normalissime hanno il risultino col nero il dorato e adoro anche i colori quindi penso che ha scelto ha fatto un'ottima scelta quindi sono stra soddisfatta davvero di ottima qualità super fresca adesso gliela porto, gliela faccio indossare così gliela faccio vedere anche indossata com'è bella e vi ricordo che sono riuscita a farvi dare un codice sconto sono stati davvero gentilissimi un servizio clienti meraviglioso che ha i miei tipi e per voi che vi darà il 10% di sconto sull'acquisto un sito fantastico con tantissime maglie come vi dicevo sia per quanto riguarda la nazione sia per tutti i vari club sia inglesi, spagnoli insomma trovate davvero di tutto e di più e sono velocissimi nell'invio un servizio clienti gentilissimo disposto a qualsiasi chiarimento e dubbio le magliette sono davvero in qualità bellissime sono contenta di questa scelta questo piccolo regalino per il mio maritozzo molto bella, mi sa pure bene quindi ogni tanto magari gliela rubo se mi sa e spero, spero, spero che di avervi fatto cosa credita con questa piccola scoperta sapete che quando scopro qualche sito interessante mi piace condividerlo con voi e soprattutto poi se riesco a darmi un aiutino quindi con un codice visto che poi lo sponsorizzo sul canale è sempre cosa cari spero di avervi fatto una cosa credita insomma io immagino di sì perché comunque voglio dire l'Italia è un paese che ama il calcio quindi una maglia della nostra squadra del cuore a piccolo prezzo, bella, di qualità in più con uno sconto ben venga e quindi niente io adesso la porto a Diego la faccio indossare oggi poi vi faccio la ripresa anche della maglia indossata così potrete vederla perché mi sembra che non ha difetti che sia davvero perfetta e vi faccio anche una ripresa con la videocamera della maglia da vicino in modo che la vedete per bene in tutta la sua bellezza sono contenta che ha scelto questa maglia perché sponsorizzo qualcosa che piace anche a me certo se era della Lazio era più bella ma va bene lo stesso e io ringrazio il sito per avermi dato questa possibilità di condividere con voi anche il codice sconto per aiutarvi e spero di avervi fatto appunto cosa credita mi raccomando rimanete fino alla fine perché vi mostro la maglia indossata quindi poi ci vediamo per i saluti la maglia da vicino per bene mi ricordo che sotto nell'info box comunque trovate il link diretto per acquistare la maglia e il codice sconto per voi del 10% per acquistare la maglia del vostro cuore sono velocissimi velocissimi quindi non abbiate paura arriverà per tempo se avete qualsiasi dubbio comunque vi lascio anche la loro pagina Instagram in modo che possiate contattarli e sono carini e rispondono tranquillamente scrivono in italiano quindi potete stare tranquilli adesso la porto a dietro quindi vi lascio poi alla vista della maglietta per intero e anche la maglietta indossata quindi poi ci saluto allora voglio riprenderla per bene perché sì, lo merita veramente è bellissima è bellissimo veramente l'ora di vedere la faccia di Diego quando gliela porto vi faccio vedere anche la parte posteriore questo mi sa che è quella cattedrale di Barcellona bellissima bellissima la sagrata famiglia mi sembra si ama molto molto bella adesso gliela portiamo così vediamo anche la faccia sorpresa di Diego Diego sta lavorando sicuramente non sta fresco come noi ci siamo oviosi con l'aria condizionata però gli portiamo il gift il gift for you a me non mi piace mi sa che faccia la burba vediamo bella spettacolare però bella bella la provo subito spettacolare bella 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 si veste bene perfetta leggera contento? bellissima ciao vi ricordo che sotto in info box trovate il link e il codice sconto per acquistare maglie di calcio super qualità velocissimi nell'invio carinissimi per qualsiasi dubbio trovate di tutto e di più andate a vedere il loro sito ve lo consiglio un bacio e al prossimo ciao ciao